Dopo i buoni risultati della stagione 2018-2019, tra i quali possiamo ricordare le quattro medaglie vinte ai campionati italiani giovanili e campionati italiani di categoria, oppure le buone prestazioni dei nostri ragazzi schierati nelle rose dei campionati nazionali, come ad esempio Alessio Dell'Erba, che ha portato a casa un ottimo 70% di vittorie nel campionato di B2, per la stagione 2019-2020 abbiamo in serbo tante novità. Innanzitutto, dopo la decisione di due anni fa di non iscrivere il campionato femminile di A2 per problemi economici, abbiamo deciso, purtroppo, anche quest'anno, di rinunciare all'iscrizione ai campionati nazionali maschili. Questo perché è intento, al 100% della nostra società, investire sull'allenamento, sulla qualità dell'allenamento, e crescere, in particolare, il settore giovanile, ma anche tutti gli altri settori, come può essere quello anche amatoriale o dilettantistico. Non a caso nasce il progetto Città dei Sassi Academy. Il progetto Città dei Sassi Academy non è altro che l'apertura della nostra palestra, o meglio, delle nostre sedute di allenamento, anche a coloro che non risiedono nella città di Matera. A loro disposizione potranno trovare uno staff di professionisti del tennis tavolo, tra i quali ci sarò io, una ragazza della nazionale assoluta nigeriana che si chiama Fumilola Ayala, e dall'anno prossimo risiederà con noi nella città di Matera e lavorerà con noi, e alcuni ragazzi che sono cresciuti nel nostro vivaio, tra i quali Leonardo Marcosano, che l'anno scorso ha disputato il campionato maschile di C1. Gli allenamenti si svolgeranno a Matera, nella palestra della Scuola Media Nicola Festa, tutti martedì e giovedì, dalle 19 in poi.